cambiare impone sacrifici prendersi la briga di modificare in qualche modo stravolgere vecchie abitudini consolidate meglio andare sul sicuro stessi volti stessi nomi stesso capo figuriamoci poi se sono abitudini così consolidate da andare avanti da 15 anni in fondo del resto l'agropolese è un pigro già franco antonicelli qualche decennio fa ci definiva mangiatori di sole seduti davanti al bar a lasciarsi riscaldare fino al tramonto del sole o della democrazia siamo nel ci lento non è strano perciò che per avere il risultato delle elezioni abbiamo dovuto attendere tre giorni eppure anche questa volta sembra che si sia voluto andare di fretta e che si preferisca non vedere come i figli della gatta dicevamo in fondo gli agropolesi sono pigri a quanto risulta dai verbali in 276 sono talmente pigri da essere andati a votare con schede già votate altri sono talmente pigri da essere andati a votare registri alla mano senza essersi mossi da casa altri ancora sono talmente pigri che al libro della democrazia hanno preferito le più classiche fotocopie magari già puntate con nomi cognomi eccetera non fosse mai che poi uno si dimentica tutto risolto in fondo è un problema di pigrizia sarà anche pigrizia magari quella della procura della repubblica di non disporre il riconteggio delle schede mettetevi voi a ricontare 12.815 schede una ad una con il rischio magari che ce ne sono qualche centinaio in più di quelle iniziali